Non sai di quanta energia ha bisogno il mondo, ma sai di quale? Un'energia pulita che faccia respirare la natura. Per questo è bello avere la nuova Honda Jets Hybrid e il suo motore innovativo che riduce i consumi e le emissioni. Non sai mai quanta energia risparmierai. Ma è bello che ci sia un'auto che l'ha già pensato per me. Ok, perfetta, questa la montiamo. Va via, ti va via. Nuova Honda Jets Hybrid, l'auto che ama il tuo mondo e lo consuma meno. Scopri la sabato e domenica.